Gentili telespettatori, buona giornata. Maria Elena Boschi dice Conte, lo conosco da anni, ecco che cosa e chi sta aspettando. Sta aspettando Trump per tornare a destra. Quindi, Conte vuol tornare a destra? Conte è sempre stato uno di destra? Il Movimento 5 Stelle, ma voi non vi ricordate che questo movimento si vantava di essere trasversale? Noi siamo trasversali, se a noi interessa una cosa non ci poniamo il problema se è stata incasellata a destra o a sinistra. A noi interessa quello e andiamo per prenderci quello, indipendentemente che la società quella cosa la voglia incasellare a destra o a sinistra. Noi siamo trasversali, facciamo quello che riteniamo giusto, punto e basta. In quel trasversali ci può essere un capo politico di destra o di sinistra e gli elettori dovrebbero essere trasversali. C'è però un fatto che quando il Movimento 5 Stelle aveva il 30%, 35%, all'interno c'erano elettori di destra e di sinistra. Io credo, magari mi sbaglio, che l'elettorato di destra che era dentro il Movimento 5 Stelle se ne è andato via da tempo ed è rimasto solo quello di sinistra. Quindi se Conte vuole spostarsi a destra, con un elettorato di sinistra, non so se gli va bene. E poi Maria Elena Boschi dice, io lo conosco bene, da tempo, lui sta aspettando Donald per tornare a destra. A parte che quando lui governava c'era dall'altra parte questo Presidente degli Stati Uniti e come sempre accade in Italia, i governi italiani stanno sempre con gli Stati Uniti indipendentemente che il Presidente sia un conservatore, un repubblicano. Quindi non è che Conte stava con Donald perché era lui, stava con Donald ma anche se era un altro stava con quell'altro perché l'Italia sta sempre con gli Stati Uniti indipendentemente da chi vinca le elezioni. Come questa volta, vinceranno questi o quegli altri, l'Italia starà sempre con gli Stati Uniti. Quindi non è che se vince la sinistra allora tu sei di sinistra perché stai con gli Stati Uniti che ha vinto la sinistra o stai con gli Stati Uniti che ha vinto la destra e tu sei di destra. Vabbè, comunque, ci siamo capiti. Però Maria Elena Boschi dice, io sono sicura. Intervistata dal Corriere della Sera, parla senza mezzi termini di rancore riguardo a Conte. Ancora non digerisce la sostituzione con Draghi. Sta fermando il cantiere del centro-sinistra. Allora, voi dite, Conte è rancoroso, non accetta di essere stato sostituito da Renzi e non vuol più sentir parlare di Renzi. Allora, io vi dico, scusate, ma voi che cosa fareste al posto di Conte? Conte era il presidente del Consiglio. Arriva a Renzi, fa cadere il suo governo per mettere Draghi e poi se ne vanta in giro. Io ho fatto cadere Conte, io faccio cadere Conte, io sono macchiavellico, faccio un favore agli italiani perché non è capace. Mettetevi nei panni di Conte. Secondo voi, al suo posto, vorreste vedere ancora Renzi o non vorreste vederlo più neanche in fotografia? Come Enrico Letta quando ha avuto il ben servito, vi ricordate? Stai sereno Enrico! Ecco, quindi Conte ha rancore verso Renzi? Mi sembra assolutamente ovvio. Il fatto è che Renzi non è il classico politico, perché il classico politico è quello che si fa scivolare addosso le cose. Vi faccio un esempio del classico politico. Salvini, quando Renzi lo manda a processo insieme agli altri, io se fossi stato in Salvini non avrei più rivolto la parola né a Renzi né a Conte né a tutti quei politici che mi hanno mandato a processo. Invece Salvini, dopo qualche mese, stava ridendo e scherzando con Renzi in Parlamento, dopo che Renzi lo aveva mandato a processo. Ecco, il politico si fa scivolare le cose addosso, tu mi hai mandato a processo, fa niente, ridiamo, facciamoci una risata su. Io non sono un politico, quindi io mi sarei comportato come Conte, con tutto il rancore che volete. Se io sono al governo e c'è Renzi che mi butta giù, io di Renzi non ne voglio più sentir parlare. Anzi, farei di tutto per rendergli il favore. Visto che Renzi vuole entrare nel campo largo per salvarsi alle elezioni del 2027, il perché ve l'ho spiegato tante volte, se un partito va da solo alle elezioni ha bisogno del 3% per entrare in Parlamento, soglia minima. Se non hai il 3% non hai nessun posto di lavoro in Parlamento, nessuna poltrona. Però se un partito va in una coalizione ha bisogno solo dell'1%, è per questo che Renzi si è avvicinato alla Schlein nel campo largo. E Conte giustamente dice, ah io ho capito, adesso tu ti attacchi al campo largo perché vuoi entrare nel prossimo Parlamento, perché sai che al 3% adesso non ci arrivi. Allora io non ti voglio nel campo largo, io voglio fartela pagare e voglio che tu venga espulso dalla politica per non avere i voti necessari. Quindi quello che sta facendo Conte, secondo me, è assolutamente comprensibile. Poi se si vuol dire che la politica deve essere diversa e tu devi far finta di niente a chi ti ha pestato i piedi, fate pure. Ecco, io non sono un politico, Conte ancora non è diventato un politico, quindi non si fa scivolare le cose addosso e ha tutto questo rancore. Poi che Conte stia aspettando Donald per andare a destra mi sembra un po' ok, vince quello le elezioni, e allora il giorno dopo Conte dice, beh allora io mi sposto con Meloni, mi sembra una roba di un infantilismo anche solo pensarla, ma che senso ha? Non è che Conte deve dire, adesso io sono di destra, basta che comincia a votare le cose che dice Meloni e si sposta automaticamente a destra. Però voi vi immaginate Conte insieme a Meloni, Tagliani e Salvini? Io non me lo vedo, Conte che ride e scherza con Conte, non me li vedo. Eppure c'è Maria Elena Boschi che dice, io lo conosco bene Conte, sta aspettando l'elezione di Donald per spostarsi a destra. Bah! Dice, lo conosco da molti anni, è in una fase difficile della sua esperienza politica, ha rotto con Di Maio che lo aveva scoperto, ha rotto con Grillo e non sa come spiegarlo, vuole rompere anche con Schlein, a un certo punto dovrà smettere di rompere e iniziare a costruire, non ci siamo, vediamo se Conte ci crede o aspetta Trump per tornare a destra. A me, mi sembra una sciocchezza quella che ha detto Laboschi, però, lei è lì in Parlamento, ne saprà più di me? Non lo so, arrivederci a tutti e grazie.